Siamo a Genova, siamo al cantiere di San Giorgio del Porto, siamo qui per rinnovare la nostra certificazione di classe e allo stesso tempo stiamo anche aggiornando tutti gli automatismi sia nel reparto perforazione che nel controllo dinamico e posizionamento della nave. Il sistema di posizionamento dinamico è un sistema che riceve segnali sia da satellite che dal beacon che sono posizionati sul fondo e il miglior segnale viene riprodotto in posizione. La caratteristica di questo posizionamento dinamico è stare sulla verticale del pozzo anche nelle peggiore delle condizioni media. In questo momento siamo nella driller cabin, ossia nella cabina da cui tutte le strumentazioni, tutti i macchinari usati qui in sonda vengono controllati. Gli schermi che vedete sono quelli che danno al perforatore tutti i parametri necessari al controllo del pozzo. Il peso al gancio, il peso sullo scalpello, la torsione, la pressione. La vita di bordo del personale nelle 24 ore sono sedivise in 12 ore lavorative e 12 ore di riposo. Abbiamo tanti possibili relax, tipo le televisioni, abbiamo wifi, internet. Insomma cerchiamo di rendere la vita a bordo il più vicino a casa.